I pillegrini da Bidoni stanno percorrendo verso Santa Maria Ossolo, sullo sfondo il lago Omodeo. Oggi è il 20 di novembre, una temperatura di 18 gradi, molto gradevole. Sulla destra troviamo il colle del Tempio di Giove e siamo diretti appunto a Santa Maria Ossolo. Un percorso di 5 chilometri con i pillegrini, una proposta dell'Ufficio della Pastora del Turismo. In tutte queste domeniche di novembre e poi a dicembre saremo il 4 di dicembre. Ci porteremo a Ulatirso, sulla Tiga, e poi l'11 abbiamo un altro percorso per concludere a Soradile il giorno 18.